Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati oggi lunedì 17 ottobre, questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali. Partiamo subito dal santo di oggi che è un santo intorno all'anno 50 di umili origini, stiamo parlando di Ignazio di Antiochia, Sant'Ignazio, dicevo nacque in Siria verso l'anno 50. Il sole è sorto alle 7.24 e tramonterà alle 18.23. Vediamo subito il tempo per la giornata di oggi. Oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso per lievi ed innocue velature, le temperature saranno senza variazioni di rilievo. I venti sud occidentali di brezza leggera, contemporanea rotazione dai quadranti settentrionali lungo la costa durante le ore centrali della giornata, il mare sarà poco mosso. Per domani, martedì 18 ottobre, cielo parzialmente nuvoloso con possibili locali piovaschi o brevi rovesci. Domani il tempo cambia, peggiora un po'. Le temperature sono senza variazioni di rilievo, i venti sud occidentali. Anche per le giornate mercoledì eccetera eccetera, continueranno ad essere instabili. Le temperature le vediamo velocemente, insomma per le 14, quindi nel cuore della giornata in provincia di Pesaro Urbino le temperature saranno minime 12, massimo, o meglio quelle delle 14 saranno di 17 gradi. Quindi, insomma, ancora se è gradevole, insomma, le temperature sono gradevoli. Cominciamo dal resto del Carlino. Questa è la fotografia principale, la fotonotizia, stato brado, sempre più frequenti gli incidenti in cui gli automobilisti travolgono i cinghiali, macchine danneggiate, animali morti, proteste per i risarcimenti, poi le richieste. Mettete delle reti lungo le strade o succederà una tragedia. Poi, sempre sul Carlino, si svela oggi il luogo dove verrà costruito l'ospedale unico, quello che servirà per le due città, soprattutto Pesaro e Fano e non solo. Oggi, infatti, 59 sindaci sono pronti alla battaglia. C'è questa riunione dell'area vasta ad Urbino con tutti questi 59 sindaci. La costa contro l'entroterra, in mezzo c'è l'algoritmo che oggi appunto deciderà una volta per tutte, almeno vedremo se sarà così, dove costruire questo ospedale. Poi lo vedremo tra un istante, vola nel diruppo, lo salvano come in un film sul Monte Catre. Andiamo allora nella pagina dedicata alla sanità, resa dei conti, ospedale unico, eccola qua, il giorno della verità, l'area vasta sarà campo di battaglia. Urbino oggi la regione svela il luogo, Ricci c'è, ma Ceriscioli invece no. Alle indicazioni informatiche i primi cittadini dovranno aggiungere anche quelle politiche e i loro criteri, le loro valutazioni, cioè le valutazioni dei sindaci andranno ad inserirsi tra quelle dell'applicazione, dell'algoritmo. Poi la regione aggiornerà il tutto e da tutte queste informazioni tra l'uomo e le informazioni che arriveranno dalla mente dell'uomo e quelle dell'applicazione, quindi del cervellone, arriverà il risultato finale. Quindi non credo che ci sarà oggi. Comunque la fronda, eccola qua, Pergola con otto giunte, no all'ospedale unico, potenziari punti periferici, Cagli e Sassu Corvaro puntano al mantenimento dei propri ospedali. Poi invece le grandi città, il sindaco di Fano Seri non accetta alternative a Chiaruccia, Ricci per Pesero muove su Muraglia o Fosso Segliore. Gambini, che è il sindaco di Urbino, il presidente dell'area vasta, deve mediare. In Ciampa invece, questa è la cronaca sul resto del Carlino, in Ciampa e vola nel dirupo il salvataggio spettacolare di un anziano fungaiolo sul Catria, tre ore di operazioni dei pompieri e del 118. L'uomo issato col vericello perché l'elicottero non poteva atterrare nel punto impervio e dunque rimasto sospeso nell'area questo elicottero per tirar su con il vericello. Alberto Proietti, di 77 anni, originario di Roma ma residente a Frontone, era lì a cercare i funghi. Poi a Fano, da Fano, nuovo presidente dell'Accademia degli Scomposti, Giovanni Del Gaiso al posto di Lupo Bracci. Questa è la notizia, mentre a fianco c'è da Fano, mentre a fianco c'è quella che arriva da Sant'Angelo Invado, attesa per i VIP, a Sant'Angelo Invado c'è in corso la fiera del Tartufo. Dicevamo, riprendiamo qui la foto notizia in prima pagina sul giornale sul resto del carriero, sbuca dal maxi cinghiale, schianto in curva, a Isola del Piano gli incidenti con gli animali sono sempre più numerosi e quindi c'è anche adesso chi protesta come un automobilista che denuncia i danni provocati da ungulati non vengono riparati. L'esemplare è stato travolto dalla vettura, l'esemplare che pesava, pensate, più di un quintale di peso. Sotto c'è la fotografia di questo animale sulla strada, uno dei cinghiali purtroppo uccisi. Si scrive il giornale, Cinzia Signoretti indica invece da dove venivano la signora Cinzia Signoretti che indica, vedete, dalle zone adiacenti alla strada. Cuccioli falciati da un'auto, mettete le reti o qui verrà fuori una tragedia. Cambiamo giornale adesso, andiamo a leggere la prima pagina del Corriere Adriatico, non c'è l'accordo per il sito, è il giorno dell'algoritmo ospedale unico. Oggi l'Assemblea dei Sindaci per scegliere la sede appelli per un rinvio. A centro pagina la Vis strappa un punto nel derby, ancora il bomber Costantino a segno del combattuto derby di Civitanova. Sassarini dice la più bella partita di questa stagione. E la pagina di Fano del Corriere Adriatico, eccola qua, consegnati oltre 40 mila euro e tanti aiuti in beni materiali. Stiamo parlando del ritrovo che c'è stato a Tre Ponti di Fano con la delegazione di Arquata del Tronto per i 30 anni della fondazione del CB Club Mattei, l'associazione volontariato che si occupa anche di protezione civile a Fano. E qui vedete l'intervento del sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, accanto al sindaco di Fano, Massimo Seri, e ai tanti volontari che hanno partecipato a questa celebrazione. Sottoscritto un accordo che affida ai volontari della protezione civile le attrezzature comunali. E sotto pressing su piano comunale verifiche sismiche, 5 Stelle sollecitano con una interrogazione l'aggiornamento di questo piano comunale, che è un piano che tutti i comuni devono avere e che certamente va sempre tenuto aggiornato. Museo chiuso invece c'è delusione, c'è stata delusione per turisti francesi che erano in visita nella città di Fano, comitiva bloccata da un avviso sul cancello, quasi inesistente, l'informazione preventiva. Il Festival del giornalismo culturale ha evidenziato l'importanza della comunicazione. Il CON invece finanzia tre interventi per 460 mila euro, sono stati concessi fondi per la pista di ciclismo alla trave e per due campi da calcio. Dalla Valle del Cesano la cronaca accade nel dirupo per cercare funghi. L'infortunio nel pomeriggio tra gli impervi sentieri del Catria grave un pensionato di frontone, l'uomo trasportato in ambulanza d'Ancona, i soccorsi resi ancora più difficili dalla nebbia. Questo è un momento del soccorso. Alcune fasi di questa operazione che c'è stata appunto ieri pomeriggio sul Catria. Vedete l'uomo steso, imbracato su una barella, probabilmente nel momento in cui è stato sganciato dall'elicottero. I 75 migranti invece, ospiti, accolti a Fontavellano. La gitta si trasforma in un'esperienza per conoscere il paese. Da Senigallia alluvianati esasperati. Io non rischio, però scappo, parafrasando un po' il titolo dell'iniziativa che si è svolta in tutte le città italiane, molte città italiane in piazza, iniziativa di protezione civile. Io non rischio, appunto dove i volontari hanno dato informazioni su cosa fare in caso di terremoto oppure in caso di alluvione. E i senigalliesi che di alluvione purtroppo ne sanno qualcosa, io non rischio, però scappo. Chiudono le attività, fuga per la paura, molino manazzana, rione fantasma. Ci sono ancora gli strascichi di quell'alluvione che causò anche delle vittime. Abitazioni inagibili e vie che sono ormai di scarica, cielo aperto e emergenza. E poi andiamo sull'altra pagina di Senigallia. Spacciatori e cercatori d'oro fuori programma in spiaggia. Hanno trovato una carcassa di un delfino in avanzato stato di composizione in Riva Marzocca. Fermato invece un ragazzo, visto dei militari, ma addosso non aveva nulla. E questa invece è l'immagine dei cercatori d'oro sulla spiaggia di Velluto. Non ci sono solo sulla spiaggia di Velluto, va di moda insomma cercare con questi attrezzi, con queste apparecchiature, cercare oggetti metallici, oggetti d'oro. Sono quelli che poi solitamente si perdono durante l'estate. E questo è il periodo buono, ormai siamo un po' in là. Però solitamente appena finisce la stagione entrano in azione, quando non lo fanno già durante la stagione, di mattino presto, insomma entrano in azione e sperano di trovare ciò che viene dimenticato durante l'estate, dai bagnanti distratti. Mi pare di aver letto tutte le pagine, no, ce n'è rimasta una, del Corriere Adriatico, Pesaro e Provincia, eccola qua. La frusta dell'arcivescovo, dilaga la peste del vizio, da Coccia, l'arcivescovo di Pesaro, Piero Coccia, un monito, nuovo monito, folla la processione, ieri a Pesaro c'è stata la festa del voto, è una festa che si tiene ogni terza domenica di ottobre e ricorda quanto accadde nel 1855 con il dilagare dell'epidemia di colera. Di fronte all'impotenza di contenerla con mezzi umani, il magistrato cittadino dell'epoca fece ricorso alla Beata Vergine delle Grazie, ordinando che quell'immagine a cui la comunità era da vota fosse portata il 21 giugno nella chiesa di San Francesco dove ci furono delle messe solenni, eccetera, eccetera. Ebbene, da quel giorno, dal 4 luglio, non ci furono più morti e quindi il 21 ottobre del 1855 venne celebrata la festa del voto, la prima. Sono 161 anni che a Pesaro si svolge questo rito tra i più cari alla comunità. È tutto, grazie per aver seguito Occhio ai giornali, ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia del telegiornale. Arrivederci. Grazie a tutti.